Ciao a tutti e benvenuti nella nostra rubrica dove parliamo delle news più succose e interessanti della settimana. Come potete vedere non sono come di consueto nel mio saluttino ma ben sì al Comicon 2018. Notizia bomba della settimana sono gli incredibili incassi di Avengers Infinity War, diciannovesimo lungometraggio del Marvel Cinematic Universe uscito in Italia il 25 aprile e in America il 27. Incredibile incasso nel fine settimana in America, ben 257 milioni di dollari. Battendo a mani bassa il precedente detentore del titolo che era Star Wars il risveglio della forza, 247 milioni. Per celebrare questo è stata fatta la consueta immagine celebrativa. Non possiamo però dimenticarci dell'Italia. Il film infatti qui ha totalizzato 9 milioni che vanno a contribuire all'incredibile cifra di 630 milioni di dollari in tutto il mondo. Secondo migliore incasso nel primo fine settimana. Però attenzione, manca ancora la Cina dove deve ancora uscire. Riuscire a tenere sulla lunga distanza e arrivare alle cifre record di Avatar e Titanic? Beh, diteci cosa ne pensate qui nei commenti. E non dimenticate di seguirci sui nostri canali social Facebook e Instagram. Iscrivetevi al canale YouTube, attivate la campanella per ricevere tutte le notifiche. Leggeteci sul nostro movieplayer.it